raga oggi è giornata delle meduse ci stavamo allenando ma domenico ha detto mario dobbiamo uccidere subito le meduse altrimenti i pesciolini non ne vediamo dov'è 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 2 3 4 5 6 7 18 19 per venti non abbassare la schiena alta la schiena vai vai un po più avanti vai 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 ciao 1 2 dai sì dai via tieni le alte le braccia tieni le alte vai bene dai su pigrone vai apri chiudi le gambe dai via sì via ok già va meglio cosa c'è adesso domenica cosa c'è una medusa dov'è raga oggi è giornata delle meduse ci stavamo allenando ma domenica ha detto mare dobbiamo uccidere subito le meduse altrimenti i pesciolini non ne vediamo quindi ok va bene altri due minuti e riprendiamo gli allenamenti ormai viva ancora se la faccio così no è morta adesso cosa hai fatto stamattina sono andata a caccia di menù se stamattina ne ho ho deciso 27 ok ragazzi che vi faccio vedere solo la metà perché le altre ma questa è un'altra ma questa è enorme guardate lì è enorme ragazzo quanto è grande questa medusa la presa la presa la presa la presa il pesciolino si stava mangiando eccolo 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 qua lo liberiamo libera il pesciolino e qui continuiamo qui continuiamo con queste con queste meduse continuiamo domenica ci spieghi domenica ma ci spieghi un attimo perché le meduse non sono buone non le possiamo mangiare le meduse non è un pesce si potrebbe mangiare ma tu l'hai mai mangiata tu no non l'ha mai mangiata a meno che non lo uccidi però non ce la mangiano tutte va bene dai ora riprendiamoci allenamenti domenico certo ok dai andiamo attrezzatura per pescare le meduse le meduse c'è un attrezzatura specifica per pescare le meduse si ognuno c'è la sua attrezzatura qual è l'attrezzatura per le meduse per le meduse dimmi qual è io uso solo due attrezzi quale sono questi due attrezzi penso che si usano solo quelli si allora prima un retino bello grande perché non sai cosa che medusa può capitare ok e poi un palo appuntito perché nel caso tipo quello che hai usato tu tipo quello si ok perché le devi uccidere si e poi io ho usato un palo di retino che è lungo 7 metri ok ho cacciato il retino visto che c'è rimasta la punta si l'ho usato per le meduse quindi un retino grande serve si e questo qui ok è questo c'è un altro là come vedete si ma qui ce ne dobbiamo andare però devo continuare corriamo via andiamo correre correre via riprendiamo questi allenamenti forza andiamo andiamo forza me lo fai vedere sì vai una volta certo che te lo faccio vedere vedi aspetta cioè non ho capito ho capito però non ho capito come devo fare ti metti così come eravamo prima e devo tirare un ragamino uno 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 ho capito ho capito vediamo se hai capito vai uno tira bene verso i gomiti vai verso i gomiti ok verso i gomiti verso i gomiti vai tira forte tira bravissimo non troppo alza adesso alza alza così stai fermo abbassa poco 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 abbassa poco tieni alza così bravo tieni forte tieni forte forte sì ok qui siamo nel regno di domenico qua ci sono tutte le canne da pesca poi un giorno in tutti i video ce le spiegherà uno per una quelle canne perché hanno tutti una un uso specifico vero sì ma ho la canna per le set adesso no 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 oggi dobbiamo parlare di meduse domenica è carico meduse eh la canna per le meduse ah e qual è la canna per le meduse veramente non uso proprio una cosa specifica e vabbè che cosa usa usa lo straccio e come si usa lo straccio no questo non l'ho capito allora allora se usa lo straccio allora veramente io uso sia il palo dello straccio che si usa per ma perché un filo grosso aspetta un filo grosso l'attacco qua sì e lo lancio sì e lo faccio muore assomiglio un'altra meduse così le meduse si avvicinano invece con quest'altro ci metto un altro filo e ci faccio un cappio così appena si avvegina la medusa lo straccio la canna ah ok 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 e questo serve quindi ok e poi uso un altro secchiello specifico per le meduse e che cosa dobbiamo sapere più per le pesca della medusa della medusa niente più abbiamo finito abbiamo finito questo è tutto nient'altro poi l'ultima cosa principale è che le meduse escono solo quando c'è il mare così piatto e così bello ah ok e non è nemmeno sporco non deve essere nemmeno sporco eccolo un altro laggiù eccola dove? la vedi? la vedi? eccolo là se eravamo là la potevamo prendere vedi quanto è grande guarda ora la vado proprio a prendere guarda ora la vado proprio a prendere dove la vai a prendere tu? dove? ora ci dobbiamo finire l'allenamento un altro esercizio abbiamo siamo